Bene, ciao amici di Gorizia TV, andando per la strada, qui ti vedo. Intanto delle bellissime vetrine anni 60 e poi musica degli anni 60 con persone per la strada. Adesso vado a fare alcune fotografie, eccole qua. Erano tutti messe insieme, intanto mi sono preparato per riprendere. E poi adesso riprendo una degli anni 60, una donna speciale. Ciao, allora questo percorso di questi anni 60 significa per le vetrine migliori, giusto? Sì, c'è il QR code, si può votare la vetrina che si preferisce a tema anni 60. Bene, allora cosa è che ti piace negli anni 60, tu che invece sei degli anni 20? Eh? Praticamente ci sono vestiti, accessori che possono ricordare i vecchi anni 60. Bene, allora senti una cosa, per essere così belli e calorosi cosa bisogna fare? Eh, venire con noi, con Bazinga e venti, a divertirsi. Va bene, allora cosa bisogna dire? Votate? Sì, votate la vetrina che preferite, che vi ricorda di più gli anni 60, facendo un giro per il centro di Gorizia. Ok, come ti chiami? Lucia. Bene, ti saluto, ci vediamo alle prossime, ciao. Questa è anche bellissima, come la Merlin Monroe, guardate che visetto. Sì, Bazinga e venti, abbiamo radunato qua un po' di ragazze. Peccato che c'è questo tempo delle... Ma non importa, noi abbiamo la luce e il sole dentro sempre. Esatto. Adesso andiamo a Palazzo Artemis, perché c'è una bellissima mostra anni 60 e quindi faremo le foto a tema. Esatto, che io ho fatto il servizio l'altra settimana. Perfetto, avevamo fatto l'altro anno le foto anni 50 e quest'anno anni 60. Come ti chiami? E continueremo, io sono Loredana Barile, presidente di Bazinga e venti. Senti, cosa che ti piaceva degli anni 60? Che musica? Tutto. Tutto? Tutto, gli anni 60 penso che siano i migliori. Sono stupendi, veramente colorati e poi c'è stata un'evoluzione da colazione da Tiffany fino a arrivare i baci rock di Celentano. Abbiamo veramente un po' di tutto. Bello, e poi esistevano anche le mini, anche noi uomini contenti. Esatto, infatti, infatti. È vero o no? Dal classico siamo arrivati fino a passare a Ghibli e tutto abbiamo, e quindi è veramente una cosa fantastica. Benissimo, allora intanto un bel salutone e là continuo gli anni 60, vero o no? Ci vediamo, ciao. Ciao, ciao. Allora sortiamo, anni 60, guarda che bello. Erano belli gli anni 60, mi dispiace. Mi sono cresciuti i capelli a me, belli, lunghi. Ero il secondo, il secondo a Gorizia. Prima il genio, dopo ero io. Chiudo qua, ciao. Seguiamo la folla, anni 60. Mi sembra di tornare nelle basche dell'epoca. Ora lasciamo che si vanno a rifrescare, eh. Ecco la vetrina che ho visto ieri, anni 60, eh. Guardate un po'. La vetrina, andate a votare. Comunque vi ricordo che il Palazzo Athens, in Piazza dei Amici, si è anche una bellissima mostra degli anni 60. Vi ricordo, andate a vedere che è bella. Grazie. Grazie.